Musica Questa sera, questi giorni, i cittadini di Piedimonte e degli altri paesi limitrofi si sono stretti al dolore della famiglia di Vincenzo D'Allestro, nostro concittadino che ha perso la vita nella mattanza di Dacca insieme ad altri otti italiani. Quella sera Vincenzo era con loro, tutti per concludere degli affari all'estero. Sì, perché Vincenzo era un cittadino del mondo che portava sempre con sé un pezzo di cuore del Matese, da cui non riusciva a separarsi e che voleva portare per farlo conoscere a tutti, anche quella sera, orgoglioso delle proprie radici. Un cuore che però ha smesso di battere senza un perché, senza una logica ragione. Una fiaccolata stasera per ricordare Vincenzo. Presenti agli primi cittadini tante persone, conoscenti e non, i quali hanno rivolto il loro pensiero al caro Vincenzo e alla sua vita, troncata ingiustamente in questo modo. Grazie. 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 Grazie a tutti.